Sono Michele Zanelli, architetto, sono il responsabile del servizio qualità urbana e politiche abitative della regione e come tale faccio parte della giuria per l'assegnazione dei premi sostenibilità che è arrivata quest'anno alla sesta edizione. Il premio quest'anno si è caratterizzato per la partecipazione numerosa di progetti in tutte le categorie sia residenziale che non residenziale, edilizia scolastica, edilizia ricettiva, edilizia industriale e in tutte queste progettazioni e realizzazioni abbiamo notato una forte maturità dell'idea del concetto di sostenibilità che è passata dalla tecnologia dell'edificio ad una più ampia integrazione che riguarda gli aspetti economici del rapporto costi-benefici, gli aspetti sociali della funzionalità degli edifici nei confronti del territorio e gli aspetti di integrazione nel contesto. Questo credo che sia un'evoluzione notevole rispetto al considerare la sostenibilità dell'edificio come unicum e quindi approfondire esclusivamente gli aspetti della tecnologia e anche dell'architettura, cosa che è sicuramente l'elemento centrale del premio, ma anche l'aspetto che consente uno sviluppo del territorio in un'ottica di qualità e sostenibilità ambientale.